Fai fatica a riconoscere gli intervalli musicali? Ecco un metodo infallibile, episodio 7. Oggi parliamo del tritono, che non è nient'altro che una quarta eccedente oppure una quinta diminuita. Vediamo un esempio di tritono ascendente e uno di tritono discendente. Un buon esempio di tritono ascendente è la sigla dei Simpson. Per il tritono discendente possiamo pensare alla celeberrima Grazie dei Fior, cantata Danilla Pizzi e vincitrice del primo festival di Sanremo nel 1951. Se conosci altri esempi faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di mettere un like e di seguire il nostro profilo.